Musica Code e disagi sulla vecchia Lecco Ballabio dopo che una frana ieri ha interrotto il raccordo della 36 verso la Vassassina oggi sopra luogo dei tecnici di Anas per stimare i tempi di ripristino Mancato finanziamento per la progettazione del nuovo lungolago, il consigliere Valsecchi invita l'amministrazione a non fare il ricorso ci manca solo litigare anche col governo, dice Si accendono le iniziative natalizie in città, oltre alle luci del centro, aperto alla piccola il villaggio con giostre, bancarelle e concerti a Villa Manzoni invece torna la mostra dei presepi Buonasera e ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco Geologi e rocciatori oggi al lavoro sul versante dal quale si è staccata la frana che ieri pomeriggio è piombata sulla nuova Lecco Ballabio La strada non sarà riaperta a breve, intanto oggi primi disagi sulla vecchia via che collega Lecco alla Vassassina Si è svolto nella giornata di oggi il primo sopralluogo da parte dei geologi e dei rocciatori incaricati da Anas di verificare lo stato del versante montuoso che venerdì pomeriggio è franato sulla nuova Lecco Ballabio interrompendo la strada all'ingresso della Galleria Giulia e travolgendo un furgoncino con l'all'interno due persone, salve per miracolo Le operazioni si sono svolte con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco Nei prossimi giorni saranno stabiliti i tempi necessari al disgaggio del materiale roccioso instabile e alla messa in sicurezza dell'area a fine di consentire la ripresa della circolazione sul raccordo della SS-36 Quel che è certo è che i tempi non saranno brevi Intanto già oggi si sono registrati i primi disagi code da e per la Vassassina sulla vecchia Lecco Ballabio inadatta a sopportare una mola importante di traffico, soprattutto di mezzi pesanti Resta confermato al momento il piano viabilistico alternativo, spiega la prefettura che subito dopo la frana ha attivato il protocollo d'emergenza Sulla vecchia Lecco Ballabio è stato istituito il senso unico alternato di marcia per i mezzi pesanti con punto di blocco in zona Camera di Commercio e un altro in zona Ponte della Gallina al fine di evitare che, incrociandosi sui tornanti della provinciale, blocchino la circolazione I tir provenienti da sud e diretti in Vassassina, per i quali vige l'obbligo di uscita dalla 36 a Lecco potranno utilizzare uno qualsiasi degli svincoli del capoluogo cittadino Per tutti gli altri mezzi, il consiglio è di raggiungere la Vassassina percorrendo la 36 fino all'uscita di Bellano per poi proseguire lungo la statale 754 Parlasco-Bellano Con un'ordinanza, il comune di Lecco ha chiuso al transito i sentieri situati nell'area della Frana il 920 Rotari, che collega Ballabio con Mercurago nel tratto compreso dal civico numero 6 in località Versasio e la località Passo del Lupo il 922, che collega Sant'Egidio con il Passo del Lupo e il sentiero 23, che collega ancora Passo del Lupo con Morterone Torniamo a occuparci del mancato finanziamento per la progettazione del nuovo Lungolago Il consigliere Corrado Valsecchi invita l'amministrazione a non fare ricorso considerata la bocciatura Ci manca solo di litigare anche con il governo, dichiara Ci mancava solo di litigare con il governo Nuovo a fondo del consigliere di Appello per l'Ecco Corrado Valsecchi contro l'amministrazione comunale guidata da Mauro Gattinoni Il tema è bando perso per il contributo alla progettazione del nuovo Lungolago Valsecchi aveva chiesto in consiglio un aggiornamento rispetto alla vicenda informazione che gli è stata negata perché non ritenuta dal presidente di stretta attualità Quindi il consigliere ha chiesto di avere accesso agli atti Sono rimasto sconcertato dalle relazioni pistolari tra Comune e Ministero degli Interni dichiara dai toni delle missive, dalle ostinazioni ricerchiali colpevoli dalla mancanza di lucidità istituzionale Tutto può essere riassunto in una frase che il dottor Mario Serra, dirigente del Ministero rende nota al Comune, cioè le indicazioni al riguardo erano precise e puntuali tuttavia il Comune di Lecco le ha disattese completamente in quanto non ha svolto alcun controllo come richiesto Valsecchi invita pertanto l'amministrazione a non presentare ricorso non credo che azioni e contestazioni giudizialmente annunciati commenta il consigliere, porteranno epiloghi diversi se non incancrenire il rapporto con il governo e le sue innumerevoli istituzioni il consigliere invita l'amministrazione a cambiare strategia affermiamo l'esodo di funzionari, dirigenti, impiegati pubblici dichiara applichiamo le regole della convivenza istituzionale senza fare guerre pleonastiche e dannose diamo attenzione al lavoro quotidiano e concentriamoci sulla corretta e disciplinata missione che ogni persona che si occupa di pubblica amministrazione deve avere per il bene comune si possono anche mettere in conto la perdita di contributi per motivi burrocratici concludeva Secchi ma non possiamo invece permetterci testardamente con supponenza di intraprendere sempre guerre con tutti pensando di non essere mai sottoposti al giudizio degli altri il gruppo di minoranza provincia bene comune torna sul caso del vicepresidente di Villa Locatelli Mattia Micheli condannato per bancarotta i consiglieri di opposizione chiamano in causa la presidente Hoffman il gruppo di minoranza alla provincia territorio bene comune torna sul caso del vicepresidente Mattia Micheli come una nota l'opposizione di centro-sinistra manifesta al proprio disappunto rispetto alla posizione del numero 2 di Villa Locatelli in precedenza i consiglieri avevano chiesto conto alla presidente Alessandra Hoffman della situazione di Micheli condannato per bancarotta la risposta però non è stata soddisfacente la presidente si legge nella nota del gruppo confermato che in ossequio al principio del massimo rispetto dei diritti individuali e delle garanzie costituzionali allo stato attuale giudica la recente condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta con distrazione combinata al vicepresidente Mattia Micheli ininfluente sia dal punto di vista politico sia da quello istituzionale la Hoffman ritiene pertanto di non dover assumere alcuna iniziativa in merito una posizione che non incontra però al favore della minoranza che pur astenendosi da qualsiasi valutazione esprime viva perplessità per la decisione la fretta con la quale la presidente è inteso accantonare la questione prosegue la nota suggerisce la volontà di rimozione di un imbarazzante problema potenzialmente deleterio per il prestigio e la credibilità di un'amministrazione provinciale di solito attenta alla propria immagine pubblica a distanza di un anno dalle elezioni provinciali la conferma del vicepresidente Micheli concludono gli esponenti di centro-sinistra riteniamo aggiunga un ulteriore elemento di fragilità nella compagina amministrativa di centro-destra già particolarmente segnata da dissidi interni e in successi politici una legge di bilancio iniqua e ingiusta quella varata dal governo Meloni secondo CGL e Will che hanno indetto uno sciopero a partecipare anche i sindacati lecchesi con un presidio davanti alla prefettura no a una legge di bilancio definita iniqua e ingiusta CGL e Will nazionali hanno proclamato per venerdì 16 dicembre uno sciopero di 4 ore la decisione è giunta dopo il rifiuto del governo di prendere in considerazione le proposte avanzate durante l'incontro dello scorso 9 novembre era stato chiesto un taglio del cuneo fiscale la detassazione delle tredicesime degli aumenti contrattuali e degli accordi di secondo livello l'uscita flessibile a 62 anni e il riconoscimento della diversa gravità dei lavoratori e del lavoro di cura su questi e altri temi invece scrivono i due sindacati il governo non solo non raccoglie le richieste ma presenta una bozza di manovra finanziaria che va addirittura nella direzione opposta favorendo la precarietà lavorativa e premiando gli evasori fiscali nel mirino di CGL e Will in particolare l'aumento dei voucher a 10.000 euro l'estensione della flat tax al 15% per i lavoratori autonomi con reddito fino agli 85.000 euro l'aumento del tetto all'utilizzo del contante l'esenzione dell'uso del POS fino a 60 euro il depotenziamento della tassa sugli extraprofitti il superamento del reddito di cittadinanza oltre a ciò, dicono i sindacati mancano risorse per i rinnovi dei contratti della scuola e del pubblico impiego non si modifica la legge Fornero e si cambia senza alcun confronto preventivo con i sindacati il meccanismo di indicizzazione delle pensioni CGL Lecco e Will Dell'Ario hanno deciso di organizzare per la mattinata di venerdì 16 dicembre un presidio di fronte alla prefettura di Lecco Alla piccola è Natale grazie alle iniziative promosse dalla Comune in collaborazione con LTM insieme alle giostre e alle bancarelle spazio per concerti e altre iniziative Facciamo questo concerto prepariamo canti natalizi ma non solo canti della tradizione e il nostro repertorio gospel quindi un repertorio divertente e giusto per il periodo natalizio abbiamo già fatto un paio di concerti stasera partiamo per i mercatini di Bolzano e di Bressanone abbiamo tre concerti a Bolzano in questi giorni poi rientriamo domenica abbiamo uno a Milano e così fino al 6 gennaio per circa 14 concerti all'incirca abbiamo un ubercivolo gigante abbiamo il brunco come giostrina poi abbiamo la casetta di Babbo Natale che vedete quale spalle dove i bambini possono giocare possono fare i disegnini e tutto abbiamo il Babbo Natale dove si può fare la foto e i bambini vanno a casa anche con la foto poi abbiamo il punto di ristoro con zucchero filato cioccolata popcorn, frittelle perciò ce n'è per tutti i gusti qui la piccola per essere la prima volta sta andando decisamente bene non ci aspettavamo così tanta gente per questa novità e invece la gente sta rispondendo alla grande ciao a tutti i bambini del mondo ciao ciao a tutti i regalini sono per tutti non vi preoccupate Babbo Natale sa tutte le cose tutti i regali che deve portare tutto ok tutto a posto tutto a posto e intanto Villa Manzoni di Lecco ospita l'undicesima edizione della mostra di natività promossa dall'associazione Amici del Presepio di Lecco fra le novità anche statuine dedicate ai promessi sposi realizzate da un maestro napoletano questi sono i presepi e i diorami in mostra Villa Manzoni fino al 15 gennaio a cura dell'associazione italiana Amici del Presepio sezione di Lecco sì siamo molto felici in questa edizione di poter tornare nella sede di Villa Manzoni che è dove abbiamo iniziato nel 2011 abbiamo un'esposizione sia di presepi aperti sia di diorami quelli che si possono visionare tramite una finestrella abbiamo varie scene partendo dalla sempre presente natività con l'adorazione dei pastori piuttosto che la ricerca dell'alloggio sia in stile palestinese sia in stile popolare poi ci sono anche tante scene che sono riprese dai Vangeli della Natività per cui che non riguardano proprio la notte della nascita magari prima o dopo questo evento ecco il bello di questa mostra è che i presepi e i diorami presenti nascono un po' dalla passione di tanti presepisti sì è proprio la passione che ci guida fin da piccoli e ci permette di arrivare a un certo punto a fare queste opere e volerle condividere a tutti i costi con le persone nel periodo di Natale verso la fine della mostra abbiamo voluto realizzare un piccolo angolino in cui si vedono due bambini e realizzare il presepe un po' per andare a raccontare come tutti noi abbiamo iniziato da bambini in casa realizzare un presepe molto semplice e poi da lì questa passione si è evoluta fino ad arrivare a questi tipi di presepe è un po' un modo per spronare la gente a farlo in casa e dire che non è impossibile poi fare delle opere come le nostre c'è anche un'altra importante novità in occasione del ritorno in Villa Manzone abbiamo voluto anche fare qualcosina di più e così abbiamo ospitato un autore napoletano Giuseppe Ercolano che realizza stato in stile Settecento proprio napoletano e ha portato sia un grandissimo presepe che è molto legato al territorio del Lago di Como realizzato in collaborazione con gli amici della sede AIAP di Tremezzina e alcune figure sia storiche napoletane e alcune figure dedicate proprio a questa mostra realizzate quest'anno che riguardano i promessi sposi e il padrone di casa Alessandro Manzoni Le figure napoletane sono realizzate in argilla con gli arti in legno e la caratteristica è che hanno un corpo snodabile quindi possono essere predisposti a qualsiasi atteggiamento cambio di espressione quindi postura il passore non nasce statico è una figura che nel tempo può assumere diverse posizioni Per ora è tutto non dimenticate di seguirci anche sui nostri siti teleunica.com e teleunica.tv oltre che sui nostri canali social grazie per essere stati con noi buona serata Grazie a tutti